Piazza di Siena, al ventesimo concorso ipico di Roma, dieci nazioni partecipano con 110 concorrenti. Si commemora il conte Bettoni, scomparso nel momento di salire in sella. Non nitriranno più i suoi cavalli dopo la vittoria. Un'amazone belga esprime il cordoglio anche degli stranieri. Le gare si riaccendono, sportivo omaggio allo scomparso. Childias è il nome di questo cavallo, lo monta il francese D'Orget. Seguiamo per intero, con una inquadratura tutta ad un fiato, il percorso per il premio Pincio. Gara a tempo. Pubblico e giuria stanno già consultando i cronometri. Nessun errore finora e la velocità è notevole. Quattro italiani prima di D'Orget hanno concluso ciascuno con quattro punti di penalità. Siepe, Riviera e qui l'errore che manderà D'Orget al quinto posto. Le speranze italiane si appunteranno su Perrone, ma il premio andrà al tenente Dubreuil. Tra gli spettacoli dei concorsi ippici sono anche gli improvvisi capricci dei cavalli, i cosiddetti rifiuti. Ne abbiamo fatto una collezione durante il premio Pincio e durante il premio Viminale. Quest'ultimo lo vincerà il nostro tenente D'Inzeo, Subrando. Guerra dei cavalli contro l'ostacolo. Quando non si rifiutano tentano di demolirlo. Ma i concorsi ippici si svolgono sotto il segno dell'eleganza. E sono eleganze di cavalieri anche questo garbo e agilità nel cascare in piedi.